Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si il giorno è un solo rovoso, che mi hanno dato un buono animazione, solo perché quando sfudo sono pericoloso, e una volta lo sgatto, il vivo giornalista oggi la razza si è evoluta, quando apparecise la cosa che in assoluto rattrista, è che per soldi un altro corpo scatto viene messo in pista, non faccio l'imparato, forse mi sono sbagliato, ho un sospetto abbastanza radicato, questi colleghi che fanno i capi di santo, che come me, non hanno mai lavorato, non faccio l'imparato, forse mi sono sbagliato, ho un sospetto abbastanza radicato, questi colleghi che fanno i capi di santo, secondo me, non hanno mai lavorato, mai lavorato, mai lavorato, questi ragazzi italiani non hanno mai lavorato, mai lavorato, mai lavorato, mai lavorato, questi capi di santo, non hanno mai lavorato, non faccio l'imparato, forse mi sono sbagliato, Non lo sento a partarne radicato Questi soldi che fanno i capi di stato Secondo me non hanno mai lavorato Toma